Proseguono i preparativi in casa Turris in vista della prossima stagione. Lasciati ormai alle spalle i dubbi sulla proprietà, con il presidente Colantonio, che continuerà a guidare la squadra Corallina. La conferenza stampa della scorsa settimana con l'annuncio del nuovo organigramma delle giovanili segna un nuovo inizio per la società, pronta ad ambire quest'anno nuovamente alla salvezza, o magari a qualcosa in più. Dalla giornata di ieri è partito ufficialmente il calcio mercato, la Turris ha già ufficializzato due colpi di questa sessione estiva. Il primo, Vito Leonetti, classe 94, profilo tra i più importanti della categoria e con caratteristiche congeniali l'indicazione dello staff tecnico. L'attaccante, formatosi nel settore giovanile del Bari, è riduce da due annate molto positive in forza armatelica, di cui l'ultima è Lega Pro con 12 reti all'attivo e l'appellice dei play-off nazionali. In precedenza 37 centri nel biegno con la maglia della Vastese in serie D ed altre sprenze in serie C nelle fila di Regina, Lumezzane, Acragas e Savoia. Altro rinforzo in attacco è rappresentato da Salvatore Longo, ufficializzato proprio nelle scorse ore e in arrivo dalla Fiorentina. Sottoscritto un contratto triennale con l'attaccante originario di Catania, che dopo due campionati primavera disputati con il Club Viola, conditi da tre reti nel Viareggio Cup 2019, nelle due precedenti stagioni era stato girato in prestito in Lega Pro, prima a Bisceglie e poi alla Pergolettese, realizzando due reti nel campionato 2021. Arrivo in una società importante in una piazza calda con grande tradizione calcistica, commenta Longo. Non ho potuto dire no alla chiamata del direttore primicile e al progetto Turris. Da parte mia ci metto entusiasmo e tanta voglia di mettermi in gioco. Ho sentito telefonicamente anche Mister Caneo che già mi conosceva. Il suo tipo di gioco ha rappresentato un altro fattore importante nella mia scelta. Cresce dunque l'attesa in vista della prossima stagione, con la Turris che intanto cerca di rinforzarsi sin da subito in questa finestra di mercato estiva. Grazie a tutti.